Nei fatti si sta verificando questa transizione. Aeroporto, aeromorto. Noi vogliamo invece che sia l'aeroporto d'Abruzzo l'aeroporto di questa macro-regione adriatico-ionica che è fatta del Molise, delle Marche e anche di coloro i quali possono avere bisogno di raggiungere le tante destinazioni del mondo venendo in Abruzzo attraverso l'aeroporto d'Abruzzo. Così il deputato PD Luciano D'Alfonso salviamo lo scalo abruzzese e torna sull'aeroporto d'Abruzzo che dice presenta una serie di problematiche sulle quali la regione che controlla la struttura tramite la saga è totalmente inerte. Facciamo un piccolo promemoria per Marsiglio e Soci e prosegue probabilmente distratti dalla complessa distribuzione di braccialetti e collanine. Se giudichiamo i risultati di questi primi otto mesi abbiamo perso 37.000 passeggeri che sono un numero che toglie rating, credibilità, capacità di attrattiva. Allora poniamo due grandi questioni. La prima, portiamo la connettività aerea attraverso l'aeroporto d'Abruzzo in Consiglio regionale. Si faccia una discussione sulla riorganizzazione di questa grande infrastruttura per cercare di capire quali sono le risorse finanziarie necessarie, organizzative, occorrenti, chi è che deve guidare l'aeroporto dopo questa specie di saga che si è vista, sagra, saga, che si è vista per quanto riguarda la vicenda della gestione. Dal primo luglio scorso il CDA della saga è scaduto, nonché privo di vicepresidente. Stante la situazione di forte difficoltà, la regione, prosegue D'Alfonso, avrebbe dovuto rinnovare i componenti con priorità assoluta. Invece dopo due mesi è ancora tutto fermo. Da notizie di stampa sembra che Marsiglio voglia nominare un romano a capo della saga. Se così fosse ci troveremmo di fronte a una mortificazione delle tante professionalità. Abruzzesi doni all'incarico, come la consigliera regionale, peraltro di maggioranza. Perché non chiedere a Carla Mannetti di farsi carico di questa vicenda emergenziale? Non è persona discutibile dal punto di vista dell'appartenenza politica, visto che vale l'appartenenza politica per la saga, e poi è persona anche indiscutibile sul piano della competenza. Ha lavorato molto per la salute dell'aeroporto. D'Alfonso chiede a Marsiglio poi che fine abbia fatto l'allungamento della pista di atterraggio, che non è mai partito pur essendo stato finanziato nel 2016 dalla giunta regionale, che ho sottolineato presieduto. Ryanair inoltre fa quello che vuole senza rendere conto a nessuno. Poi gli errori imperdonabili riguardanti proprio la contrattualistica che l'aeroporto e la regione devono stabilire con i vettori aerei che devono aiutare gli abruzzesi ad andare nel mondo e quelli del mondo a venire in Abruzzo. Su questo noi chiediamo che Regione Abruzzo faccia la regione. Si occupi meno degli oboli di campagna elettorale dei partiti nazionali della loro coalizione e la regione si occupi di più delle infrastrutture che sono necessarie all'economia di questa regione.